Mi fanno i fuori onda, allora sapete, mi fanno, non me ne ero accorto, mi fanno gli scherzi fuori onda, allora visto che il nostro Andrea ha voluto così divertirsi, sapete che faccio? Ve lo ricordate Piercapponi, amici miei ed amiche mie? Se voi farete suonare le vostre trombe, noi faremo suonare le nostre campane. Tommaso, manda un pochino, cento campane, te, una te e cento noi, vai! Cento campane stanno a te e noi, ma tu... Bene, allora visto che abbiamo cominciato in allegria, allegri proprio, mi raccomando, e devo darvi una notizia, vi devo anzi ringraziare, perché l'altro giorno avete visto la nostra trasmissione che devo dire è stata molto gradita sulle ceramiche, su Cotai, eccetera, stile naturalmente, e devo dire che tante persone hanno già telefonato, hanno detto quando è che organizzate un partito che ci scriviamo e vi votiamo, no? Per carità. Lungi da noi avere delle mire politiche e delle ambizioni elettorali, però ecco, è stato un modo simpatico di principiare qualcosa che poi d'altra parte vedrete, perché veramente, la sto immaginando in un certo modo con Tommaso tecnicamente, ma voglio veramente fare questa cosa di non vendita, ma di piacere, di conversazione, per spingere voi a telefonare per la conversazione, al di là delle bellissime prenotazioni che sempre ci onorano e, devo dire la verità, alla fine sono il fulcro, perché ve l'ho detto tante volte, amici miei, Planet Art o voi ci aiutate, o Planet Art da sola non va avanti, quindi per noi è fondamentale e avere il vostro consenso, e avere le vostre prenotazioni. E credo che, visto quello che ci dicono le nostre trasmissioni, voi meritate noi, noi meritiamo voi. Naturalmente un caro saluto ad Andrea, a Jean-Marie, a Jean-Marie, e poi abbiamo Thomas, e poi abbiamo Nicolette, e insomma tutta la nostra spassosissima compagnia. Ciao, il principe tuan saluta tutto il pubblico di Planet Art e Andrea. Benvenuto principe, benvenuto, oggi è particolarmente tranquillo, lo vedo, lo vedo sereno. Signori, oggi ho una trasmissione dedicata al grande antiquariato cinese e in parte tibetano, quindi preparatevi, legate le cinture di sicurezza perché vi porto nel mondo del proibito, ma prima, perché ce l'ho in testa, vi voglio, diciamo, oddio che combino, no, calma, stai tranquillo, stai tranquillo, non voglio fare niente, mi sto riservando di fare conversazione. Però vi voglio dire una cosa, stiamo preparando, collaborando, lavorando, preparando, raccogliendo merce e questo e quest'altro, per una grande trasmissione e questa grande trasmissione sarà dedicata alla tigre. Quindi, Tommaso, mi raccomando, adesso non fare troppo, vedere troppe cose perché deve essere una sorpresa, però stiamo preparando una grande trasmissione dedicata alla tigre. La tigre è un simbolo importantissimo in Cina, nel buddismo, eccetera, ve ne ho parlato in qualche insert, ve ne riparlerò, sarà, e guardate soltanto, questa è una centina, basta non fare vedere di più, basta non fare vedere di più, che è già fatto vedere troppo, sappiate una cosa, poter avere in una trasmissione, e ne avremo una ventina, trentina di casse, monastiche, bauli, immagini, scene, porte e quant'altro riservata alla tigre. Guardate, signori, che certamente, naturalmente, ci sarà anche il libro, eccetera. Signori, noi non siamo nessuno di fronte a una Sotheby's, a una Christus, a una Metro-Duo, a quelle solite case d'aste, Dorotheum di Vienna, eccetera, che vi nomino sempre, perché sono quelle che contano. Noi non siamo nessuno, noi siamo piccoli, 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 siamo i più piccoli di tutti, pensate un po'. Però, siccome siamo piccoli, ci possiamo a volte permettere delle cose che i grandi, le grandi corrazzate, con tutto il rispetto e l'affetto per tutti gli altri, non possono permettersi, perché quando uno è un pachiderma enorme, voglio dire, deve correre, deve sopravvivere, eccetera, in un altro modo. Quando invece sei piccolo, come una formica o un topolino, vabbè, insomma, diciamo che a volte il topolino, eh? Io non l'ho detto, io non l'ho detto. Allora, diciamo che noi siamo piccoli, piccoli, però siamo anche tanto, abbiamo tanto cuore, abbiamo tanto cuore e questo io lo so che a voi fa piacere, come fa piacere a noi. Allora adesso vi faccio una rapida panoramica di tutto quello che c'è in studio e poi pezzo per pezzo torno, vi do subito al volo misure e prezzi, facciamo una trasmissione un po' diversa dal solito, adesso vi do solo misure e prezzi veloci e descrizione. Torno poi sui vari oggetti e li descrivo come vanno descritti.